ed ecco un altro filmato di carletto life sempre sulla festa delle donne qui c'è il parere del nonno e il parere differente ma più diciamo lineare della nonna a voi il filmato il 50 per cento delle giovani italiani quando l'hai fatta tu ma beh io l'ho fatta ma tu hai capito che la facciamo in due questo fa il pieno la mette da una parte io veramente ma tu oggi la festa delle donne si è sempre ignorata la festa delle donne è tanto la sorghe basta invece no ma non bel messaggio alle donne che ci seguono che sono anche tante grazie vi voglio bene a tutte a tutti cuciniamo insieme vediamo cosa possiamo fare grazie grazie a tutti voi che esistete perché la donna è un fiore amore la donna è amore è un fiore capito invece bisogna trattarle bene sempre sempre e abbassare la spalla anche quando qualche volta sbaglia ma se ti fanno incazzare come tocca fare e bisogna cambia strada o cambia il discorso e ecco fatto questa è la soluzione me ne freghismo le donne tocca trattarle bene ma se tipo tu gli escrivente rispondono che ieri fa e perché se vede che quella te vuoi rispondi ma certo certo e se la chiami non ti rispondi ma che vuoi meno ma che vuoi meno ma se non ti rispondi non ti rispondi ne trovo un'altra ne tocca uno sette e mezzo per uno adesso anche più e se alla settima non ti risponde eh c'erano tante se cammino per la strada ci sbatti il troppo mi dice da tenendo le donne che è ma si matto che c'è paura o ma sei matto? è la rana del brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr via va via di sempre quello va via ah dai brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr adesso c'iamo il maresciallo no il maresciallo no c'è tanto il chiamo dov'è?